Dalla maglia azzurra al vestito di Flanella, Costantino dirigente della Bari. Contento di prestare alla mia Bari l'opera anche sotto altra veste. Ecco qui Costagliola, il portiere che ancora farà parlare molto di sé. Fusco e Gianmarco, i terzini ancora imbattuti in trasferto. Ecco qui il capitano, capo Casale. Non resta l'utero agli amici, ma è già lì l'arbitro e quindi bisogna andare. Ai Costantin direbbe Dante, troppo presto hai parlato. È di prammatica che l'aria di Torino faccia strani scherzi alla squadra barese. E oggi Costagliola come un personaggio di Pirandello si dimentica di essere lui. Così è se vi pare. Ma nelle vetture giornate lo splendido portiere farà l'uomo che incontrò se stesso.